All'inizio sarà semplice, poi vedrai che prenderà consistenza, quindi diventa un po' più complicato, però si fa, invece di andare in palestra, si fa. Poi, noi abbiamo creato dei pini biscottini, perché abbiamo steso l'impasto, in questo caso invece facciamo la ricetta originale, cioè che prevede la formazione di palline, tipo palline d'agolto, quindi un quantitativo abbastanza elevato, si formano con le mani, poi si mettono sulla teglia, si appiattiscono e si va a manchiare con un biscottone. Questo perché? Perché se lo si fa nel piccolo tende a seccare abbastanza facilmente, invece è un tipo di biscotto che va assaggiato un po' molto, ok? E quindi la forma più grande permette questo, per l'Italia, di settarsi proprio in fondo.